Di Donato conferma il 3-5-2 con la Propatria, L'Arezzo che vuole tornare a vincere dopo due sconfitte interne consecutive, Propatria che arriva da due successi con Leinoci, Colai, Masetti in prestito proprio da L'Arezzo e Parker che partono dalla panchina in L'Arezzo. Davanti per L'Arezzo ci sono Gori e Cutolo, ancora i ruoli un po' inconsueti, Rolando, Piu che gioca dall'inizio, incursione dell'ex, Defendi segnò quattro gol con la maglia di L'Arezzo. Belloni prova ad andare via, Molnar, Belloni dal fondo e l'intervento da parte di Tornaghi, poi Piu fa partire il cross, la deviazione di Gori, la palla che va larga al diciannovesimo, poi Cutolo prova a illuminare col sinistro, gran palla per Gori, perso dalla difesa, Gori, dopo lo stop la mette dentro, si sblocca Gabriele Gori, grande aggancio e conclusione di sinistro, L'Arezzo in vantaggio. Piu qui allontana il pallone, arriva Ghioldi, mette in mezzo, Defendi subito, trova il gol dell'ex dopo Sascha Cori, anche Edoardo Defendi segna L'Arezzo sul cross di prima intenzione di Ghioldi, di prima anche il tiro di Defendi. Dura solo tre minuti il vantaggio dell'Arezzo, uno a uno, tornano i fantasmi, tornano gli incubi, Belloni, parte il traversone, l'intervento ancora di Tornaghi che manda il pallone in calcio d'angolo. Insiste L'Arezzo con Foglia, mette dentro col destro, Gori, sempre lui, poi sale Belloni, mette dentro e c'è il salvataggio di Molnar in calcio d'angolo. Dal corner seguente Cutolo mette in mezzo, arriva Gori che schiaccia, Tornaghi sta per buttarla dentro lui e poi con una smanacciata riesce a metterla fuori. L'Arezzo chiede il gol, lo stacco di Gori che stava per combinarla grossa, rimangono i dubbi anche se il pallone sembra non entrato. Cutolo nella ripresa, porta in vantaggio L'Arezzo all'ottavo con questo calcio di punizione che fa secco proprio il portiere della Propatria, secondo in campionato per Cutolo. Cross al volo di Colombo, salva Nolan in calcio d'angolo. Ancora Cutolo, prova ad andare via dal fondo, grande salita di Cutolo, dietro per Gori che la mette giù e poi calcia. Il terzo gol dell'Arezzo, la doppietta di Gori. Prima doppietta in Amaranto, ancora Cutolo che ha messo lo zampino in tutti e tre gol. Qui Propatria che lascia fare a Gori quasi tutto, 3-1. Sono entrate anche le noci Parker, Colai, Masetti e Brignoli nella formazione di Busto Arsizio. Nell'Arezzo è entrato Ceccarelli, preso in settimana. Conclusione di Cutolo deviata, palla di un soffio fuori. Arezzo che sfiora anche la quarta rete. Nell'Arezzo entrerà anche Chedira oltre a Tassi. Qui c'è il tentativo da parte di Cutolo. Poi prova a liberare la Propatria. Azione di alleggerimento. Conclusione di Masetti. La parata di Pissardo. E le noci manda fuori al 91esimo. Rinvio da parte del portiere dell'Arezzo, Pissardo. Con il colpo di testa che finisce lì, è corto. E finisce anche la partita. L'abito Monaldi fischia la fine. L'Arezzo torna a vincere, 3-1. Non vinceva dalla prima giornata. Può essere una svolta per la stagione dell'Arezzo. Domenica prossima al Comunale. Arriva la Corazzata Monza. I ragazzi sono stati veramente grandi oggi. Nonostante la quinta partita in due settimane non hanno accusato assolutamente la stanchezza ma hanno fatto una partita incredibile dove hanno meritato questi tre punti che per noi sono punti pesanti che ci riportano l'entusiasmo e ci fanno lavorare meglio.